Ciao e benvenuto su elenco prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori stampanti. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista c'è Epson EcoTanket 2720. La stampante a getto d'inchiostro EcoTanket 27203 in 1 di Combo è progettata per la semplicità. Stampa da qualsiasi luogo con il tuo cellulare, tablet o computer. La stampante a getto d'inchiostro EcoTanket 27203 in 1 offre uno scanner e una copiatrice incorporati che ti permettono di stampare, scansionare e copiare documenti ovunque tu sia. Come tutte le stampanti EcoTank, Light 27203 in 1 è stata progettata per ottenere il massimo dalla cartuccia di inchiostro. Usa solo così poche quantità di inchiostro che non è necessario cambiare l'intera cartuccia quando si esaurisce. E se ti serve meno inchiostro, nella modalità economica puoi stampare fino a 2900 pagine in bianco e nero e 1400 colori. Per eliminare il problema del cambio di cartuccia, Light 27203 in 1 utilizza una tecnologia EcoTank che ti offre grande convenienza. La preimpostazione predefinita è di mettere in funzione la stampa continua per ottenere i massimi risparmi di inchiostro. Non ci sono utensili, nastri o cassette di colore nella stampante Top 27203 in 1 EcoTank, perciò ti sarà più facile da usare e capire. Anche gli utenti meno esperti possono cominciare a stampare con la poca conoscenza delle impostazioni basilari per il funzionamento della macchina. 4 gradi posto abbiamo Epson Workforce. Epson Workforce WF7830DT WF è una stampante multifunzione a 3 di qualità professionale, facile da usare e conveniente. Grazie alle cartucce d'inchiostro separate, ha una resa superiore del 50% rispetto alle cartucce a 3 colori, e la connettività Wi-Fi ti permette di stampare da qualsiasi punto della casa o dell'ufficio. Stampa fronte retro automatica. La stampante Epson Workforce WF7838DT WF permette di stampare direttamente dal lato frontale e posteriore della pagina, usando un'unica cartuccia multifunzione separata. Questo significa che puoi ottenere un risultato professionale usando un toner nero opaco e due colori come il rosso e il giallo. Stampa in A3 a colori, economica e di qualità professionale. La stampante Epson Workforce WF7838DT WF è la soluzione ideale per chi lavora in particolari con testi professionali come uffici pubblici, studi medici o commercialisti che devono stampare documentazioni importanti su grande formato con risultati efficienti e di alta qualità. Prestazioni Professional Gaming. Grazie al driver EcoTank, regola lo stampa e senza preoccupartene, vengono automaticamente ridotti i consumabili quando è necessario e viene regolata la grandezza dell'immagine per ottenere un risultato professionale. Numero 3. Abbiamo Bradar MFC L2750D W. Stampante laser con una velocità di stampa fino a 34 ppm e 27 ppm. La connettività include high-speed USB 2.0, rete Gigabit Ethernet 10 100 base TX, wireless 800 2.11 BGN e Wi-Fi Direct per una facile connessione a smartphone, tablet e altri dispositivi. Sono presenti anche la stampa fronte-retro automatica, la copia e la scansione. Per utilizzare la funzione fax è necessario ordinare una o più linee telefoniche dalla compagnia telefonica locale. The machine is easy to maintain tanks to the handy dropping paper cassette that holds up to 250 sheets of 80 GSM plan paper and cambi reload dati anytime during a job. Automatic double-sided printing also helps save on paper with prints that are clear and smooth resistant tanks to HPS Viverinx. This robust printer include sun optional network interface card slot for future expansion. Sistema operativo supportato, Microsoft Windows 7, 8. 10 32-bit and 64-bit. Mac OS X 10.9 a 10.11 32-bit and 64-bit in addition to Linux operating system in the following distributions, Fedora, Debian, Ubuntu and OpenSUSE in a USB or network attached configuration with standard protocols supported by each distribution. Numero 2. Abbiamo HP Color LaserJet. La Color LaserJet Pro M283FDWDHP è una stampante multifunzione che offre stampa a colori, scansione e fotocopie, oltre a funzionalità di fax. La stampante è dotata di una porta USB, una porta Ethernet e una connessione Wi-Fi, rendendo facile la connessione a più dispositivi. Ha anche una funzione di stampa duplex manuale per la stampa su due lati e una funzione di scansione duplex manuale per la scansione di documenti su due lati. La stampante ha anche un alimentatore automatico di documenti per scansionare o copiare rapidamente più pagine in una volta. Stampante multifunzione a colori a getto d'inchiostro per ufficio, con stampa fronte retro, scansione e fotocopie. Stampante multifunzione a colori di alta qualità adatta per ufficio, con capacità di stampa da 20 ppm in bianco e nero e colore, fronte retro automatico, alimentatore automatico documenti 50 pagine, 154 MHz dual core CPU, interamente in plastica resistente agli urti. Per finire, il numero 1 della nostra lista è Bradar MFCL3770CDW. Questa stampante multifunzione ha colori Bradar ed è perfetta per piccole imprese o uffici domestici. Stampa, copia e scansione in modo rapido ed efficiente con stampa fronte retro automatica. Il toner ad alta capacità può stampare fino a 1000 pagine per colore e la velocità è fino a 24 pagine al minuto. Inoltre, viene fornito con una garanzia limitata di un anno e supporto tecnico online gratuito per tutta la durata del prodotto. Questa stampante multifunzione ha colori Bradar ed è perfetta per piccole imprese o uffici domestici. Stampa, copia e scansione in modo rapido ed efficiente con stampa fronte retro automatica. Il toner ad alta capacità può stampare fino a 1000 pagine per colore e la velocità è fino a 24 pagine al minuto. Inoltre, viene fornito con una garanzia limitata di un anno e supporto tecnico online gratuito per tutta la durata del prodotto. La multifunzione ad alta velocità Bradar HL3220DW è un'eccellente soluzione di qualità elevata per ufficio. Con una velocità di stampa di 26 ppm in BW e 18 ppm a colori, questo modello è progettato per sopperire alle esigenze di tutti gli utenti che richiedono qualcosa in più da un semplice dispositivo stampante. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante il mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale, iscriviti e revisione a cura di QTSS.